I nomi Tant'è ancora detto, io stavo così in te prima portò che si andava da drì, da l'orto come si chiamava il coso che che su noi la faceva la maiera no proti, no, seiato il proti che stava in te casò con chi uccelli, con un uva che lavoreva da martiglioni coso? allora qui un nome Alfredo qualcuno c'è lì e dice aspettate che non c'è lì ed esca i pensi che aveva martiglioni no, no cosa che che un sermometto si è messo in proprio avere una ferra raccia sotto i porti della Cina ma non ha fatto un gran caso un rasato di grosso guidi del borg con una sortimata che poi paghice con te cia piccia invece lì tutti i contanti avevano davanti un po' e poi la doveva essere e lì è venuta una peccaria coso? no finora finora è venuta dopo come si chiamava? coso? e peccaria? l'ho avvenuto troppo presto di nuovo in quinta e vece per te le dalle ore e poi da dopo e poi la brucia e doveva? tutto è morto da tutto ma da una massa cioè e beh sarebbe trentenne quarantenne che piace un tabacco e poi tra una domanda non è più niente ma che roba è venuta tra te è un po' che c'era il giro il giro che poi si riteneva l'orto che poi adesso mentre era adesso si fa un albergo e si diceva vabbè 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 che poi era una miseria qualcuno ha detto che che se che si avessi adesso che che c'era ma da bo eh si tornasse si tornasse in deriva cos' 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 che ormai non è più che ciò si scappa si scappa si scappa si scappa un capello ecco dal cos' che c'è un capello che era poi Giulio e poi e poi una che è stessa mena che con la sangia sotto l'ombelic cambia la gamba reggita al quarto che non era sempre all'attraverso nel corrido e poi con la sigla sempre morta e con che e con l'anel dor cos' pasquale con il neve sempre parare con il che beve sveglia fanno pensare non era mica là no l'era ecco che l'era 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 la l'era 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 un l'era 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 Ecco dal vol tippes, ma se. Grazie a tutti.